Ci sono due grossi studi sui vegetariani, c'è lo studio sugli adventisti, condotto da ricercatori dell'Università di Roma Linda in California, e lo studio di Oxford sui vegetariani inglesi, che praticamente è uno studio che fa parte di uno studio molto più grosso che è lo studio EPIC, lo studio europeo di investigazione sul cancro, che studia essenzialmente il rapporto tra cibo e salute. E all'interno di questo studio i ricercatori di Oxford hanno realizzato un sottostudio sui vegetariani, quindi loro attualmente hanno il più grosso campione di vegetariani europei, è proprio quello dei vegetariani di Oxford. Grazie a tutti.